16 anni dello Sri Lanka si uccide ingoiando acido, i suoi genitori non accettavano la relazione con una ragazzina. Botte perché non vuole indossare il velo, donna zanna ai professori, siate sentinelle e segnalate casi a rischio. Centrale elettrica, il comune rischia di essersi infilato in un vicolo cieco, la nostra intervista a Campagnolo. L'Unione Montana-Valbrenta farà Campagna Pro Autonomia, Ferrazzoli lancia stoccata a Poletto. Marostica, offese, umiliazioni e botte anche con un manico di scopa, moglie violenta, finisce a processo. Testa della pace a San Giuseppe di Cassola, tutti uniti nel ricordo dell'ex preside Sandro Pizzato. Ricercato per rapina e distorsione, si nascondeva in un campo Roma di San Giorgio in Bosco. Buonasera telespettatori, come avete sentito si uccide a 16 anni perché i genitori non accettavano la relazione con una coetanea ed è stata aperta un'indagine, il nostro primo servizio. Una morte assurda per un amore negato. I suoi genitori, originari dello Sri Lanka in Italia da alcuni anni, non volevano che frequentasse una coetanea di cui era innamorato. Così un sedicenne che frequentava un istituto superiore del Bassanese ha deciso di farla finita ingerendo della soda caustica. Nulla hanno potuto fare i medici del San Bassiano che l'hanno soccorso. Per gli investigatori, il giovane non aveva intenzione di uccidersi, probabilmente voleva dare un segnale forte ai genitori, ma le ustioni provocate dall'acido non gli hanno lasciato scampo. Papà e mamma sembra non tollerassero quella relazione. In Sri Lanka ci si fidanza dopo i 18 anni solo con una ragazza della stessa etnia, religione e con il consenso dei genitori stessi. La scelta di frequentare una ragazzina italiana ha inclinato il rapporto e in famiglia il clima non è stato più lo stesso fino alla decisione dell'altra notte. La procura di Vicenza ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti per istigazione al suicidio e ha disposto l'autopsia sul corpo del giovane. Gli investigatori stanno passando al setaccio i social network dell'adolescente, in particolare le conversazioni con la ragazzina. Si cerca di chiarire i tanti dubbi su questa tragedia. Intanto in città ci si domanda se l'integrazione con mondi così distanti dai nostri sarà mai possibile. Bisogna dare sostegno e aiuto soprattutto ai giovani che ci tendono la mano. Si vanno incoraggiati ad essere, è un gioco di parole, è un bisticcio di parole ma vanno incoraggiati ad essere coraggiosi e alcuni segnali loro gli stanno dando, a volte sono dei segnali come abbiamo visto drammatici che meritano comunque il nostro ascolto e la nostra attenzione, la nostra solidarietà, la nostra vicinanza come è stato fatto e come si sta facendo. E la storia del suicidio della giovane cingalese arriva poche ore da quella della ragazzina picchiata dal padre perché non voleva indossare il velo islamico. Fondamentale quindi l'apporto dato dai suoi insegnanti, proprio a loro si rivolge l'assessore all'istruzione della regione Elena Donazzana che dice che devono essere delle sentinelle. Proprio il tema di sentinella mi piace soprattutto nei confronti degli educatori, dei docenti a cui chiediamo sempre molto ma che diventano fondamentali quando dobbiamo capire che cosa sta cambiando nella nostra società. I cambiamenti li vediamo soprattutto tra i ragazzi. I nostri giovani passano la più parte del tempo a scuola ancora di più rispetto a quello che passano con le proprie famiglie. Ecco che è lì che si evidenziano tutti i problemi, i disagi e credo che questo modello di integrazione ha fatto forza nella ragazza per dire che era sbagliato l'atteggiamento del papà e forse, spero, possa servire anche a quel padre per decidere se vuole rimanere qui e quindi rispettare non tanto la volontà della figlia, quanto che una società come la nostra rispetta la donna, rispetta la libertà di scelta, siamo in una terra cristiana, cattolica, di grandi tradizioni, quindi quel padre dovrà anche porsi una domanda e forse la figlia che gliel'ha fatta porre, se vuoi stare qui devi rispettare tu le regole di questo territorio. E proprio a questo argomento è dedicato anche al nostro TG Linea Aperta con il seguente acquisito posto a voi telespettatori, botte alla figlia, perché non mette il velo, integrazione possibile, quindi diteci la vostra opinione agli indirizzi che state vedendo in sovraimpressione. E torniamo a parlare della centrale che il privato vuole costruire a pochi metri dal ponte, il comune sembra essersi infilato però in un vicolo cieco. Dal punto di vista del ricorso, loro possono sfruttare questa delibera, la Belfiore può sfruttare questa delibera, questo contratto dove dicono, attenzione signori giudici, il comune ha messo nero su bianco che entro questa data noi dobbiamo iniziare i lavori per la realizzazione della ciotola. No, no, noi non abbiamo messo nero su bianco questo, noi abbiamo accettato il principio che se entro quella data inizieranno, se entro quella data inizieranno, dobbiamo... Non c'è però. Non c'è scritto, c'è il condizionale, sono sicuro di questo. Spiace smentire Campagnolo, nella delibera e nel contratto di comodato d'uso tra l'amministrazione e la Belfiore per l'utilizzo di un'area di cantiere per il restauro del Ponte Vecchio, il condizionale non c'è. C'è invece specificato che il cantiere della centrale, che la città non vuole, dovrà, ripetiamolo, dovrà necessariamente aprire entro il 26 ottobre del 2017. Partiamo dal presupposto che crediamo nella buona fede di Campagnolo e precisiamo che in queste vicende l'ultima parola spetta sempre al sindaco. È evidente che su questa delibera in tanti, probabilmente in troppi, sono voluti intervenire. Così facendo è stato dato un assist clamoroso al privato. Non si può mettere in difficoltà. Ah ma... Cioè voi segnate la data di inizio dei lavori per la realizzazione della centrale. Ma noi dobbiamo tenere distinte le due cose. Può essere così, nel senso che è una lettura corretta, però non saremmo nei buoni amministratori se non mettessimo prima sempre l'interesse pubblico. L'interesse pubblico principale in questo momento è la ristrutturazione del Ponte di Bassano. Con l'accordo si preserva il cantiere. Lo si sarebbe potuto fare anche con un'ordinanza. E infatti a quanto ci risulta una parte di giunta e di tecnici volevano seguire proprio questa strada. Una decisione drastica certamente che avrebbe messo probabilmente privato contro comune davanti a un giudice ma che almeno sarebbe stata un'arma in più per vincere la causa al Tribunale delle Acque. E l'Unione Montana-Valbrinta preme sull'acceleratore del referendum proposto da Zaia per l'autonomia del Veneto. Una battaglia che deve superare i colori politici, spiega il Presidente. Sentiamolo. Magari in città sono temi che possono essere ritenuti meno importanti però chi vive la montagna e chi vive il confine capisce che questa è una battaglia assolutamente giusta. La stoccata di Luca Ferrazzoli, Presidente dell'Unione Montana-Valbrinta, è diretta al primo cittadino di Bassano del Grappa, Riccardo Poletto, che con il suo Consiglio Comunale ha chiuso alla comunicazione e alla propaganda per il referendum sull'autonomia del Veneto e la ragione della presa di posizione di Ferrazzoli è articolata. Noi siamo assolutamente favorevoli a questo referendum sull'autonomia. Anzi, lo chiediamo con forza. Riteniamo che proprio le zone di confine, quelle che vivono vicino agli amici trentini, si rendano conto di quelle che sono le diversità. Una battaglia, ha spiegato il Presidente, che è anche sindaco di Cismon, che deve superare i colori politici e deve diventare la battaglia del territorio. L'autonomia è un valore anche del centro-sinistra e deve essere rivendicato con forza nei momenti in cui questo è possibile. E i costi del referendum, sostiene Ferrazzoli, sono più bassi di quelli ottenuti con i fondi ODI destinati ai comuni di confine, denari ottenuti proprio grazie ai comuni che hanno minacciato di andarsene dal Veneto. Nel Veneto abbiamo ottenuto quasi 40 milioni di euro all'anno dai fondi di confine e questo è evidente che è stato il frutto della pressione dei comuni di confine che hanno fatto il referendum per andare con il Trentino. E quindi l'appello? Io credo che sia opportuno non solo che si faccia il referendum, ma che si sia attivi perché il voto sia più ampio possibile, perché un conto è andare a Roma a trattare con un referendum dall'esito positivo mafiaco, un conto è andare con un esito positivo consistente. E consegnati oggi a tre quartieri i kit per la cura del verde pubblico ed è stata anche un'occasione per fare il punto sulla sicurezza in città. Comincia dai Tosaerba la sicurezza partecipata in città. Oggi l'amministrazione ha messo nelle mani dei volontari dei quartieri i kit per la cura del verde pubblico, un segnale di attenzione alle periferie ma anche e soprattutto una richiesta d'aiuto per tenere in ordine la città e tenere gli occhi aperti sulle zone decentrate, una sorta di sentinelle del territorio. Adesso l'aggettivo ognuno può dire il proprio, noi siamo dei volontari che ci mettiamo a disposizione per la pulizia, per la manutenzione del verde e soprattutto per il controllo del territorio. Sappiamo tutto quello che succede. Tre aserba, 12 spugliatori, un tattorino. Insomma kit ecologici a parte, l'obiettivo è quello di evitare il degrado, fare in modo che nei quartieri le istituzioni possano arrivare a far sentire la loro presenza, anche se attraverso i volontari. Secondo me la cosa principale è il controllo del territorio. Noi nei nostri parchi, oltre a fare le cose che sono in convenzione, 12 sfalci l'hanno, concimatura, putatura, soprattutto abbiamo il controllo del territorio. Nel frattempo la roadmap per il progetto sicurezza partecipata continua a passo spedito. Stiamo in attesa dell'ultimo nulla ossa da parte della prefettura per far partire concretamente il progetto di sicurezza partecipata che vede appunto i cittadini dei quartieri in prima linea nel segnalare, attenzionare il proprio quartiere. Al termine della parte burocratica comincerà quella operativa con l'individuazione dei volontari e le prime riunioni per stabilire compiti e fornire indicazioni su come e quando entrare in azione. E a Marostica una donna finisce il processo per aver picchiato il marito con una scopa. Per più di un anno avrebbe reso la vita impossibile al suo ex marito tanto da essere denunciata prima e rinviata a giudizio poi. È iniziato nei giorni scorsi il processo a carico di una 32enne, oggi residente a San Martino di Lupari nel Padovano. L'imputata è stata accusata dal pubblico ministero di aver maltrattato il coniuge di 38 anni il quale si è costituito parte civile per chiedere un risarcimento dei danni. I fatti contestati dalla procura che aveva coordinato le indagini della polizia giudiziaria dopo la denuncia sporta dall'ex marito sarebbero avvenuti a Marostica dove abitava la coppia tra il marzo del 2014 e l'aprile dell'anno successivo quando i coniugi avevano deciso di prendere strade diverse. In base a quanto ricostruito la donna avrebbe insultato con frequenza il compagno anche in presenza di altre persone con epiteti irriferibili. In qualche occasione poi sarebbe giunta ad aggredirlo fisicamente anche con il manico di una scopa oppure graffiandolo in viso e sulle braccia. Quando la coppia litigava lei si trasformava in una vera e propria furia. E con il prossimo servizio vi facciamo venire l'acquolina in bocca con una gara speciale tra i chef. Il piatto si chiama pazienza bassanese. Pazienza perché per fare questo piatto abbiamo avuto molta pazienza perché per fare tutti gli spaghettini abbiamo impiegato due ore quindi un tempo notevole. E in più per ricordare anche la pazienza che ha il contadino nel seppellire l'asparago ogni volta a ricoprirlo di terra per far sì che non prenda la luce. Piccoli chef crescono con una sfida ai fornelli che ha visto in gara numerosi studenti del Vicentino. L'ingrediente principe beh in questa stagione l'asparago bianco di Bassano di OP. Un'attenta giuria ha valutato la presentazione del piatto, l'equilibrio tra l'asparago e gli altri ingredienti e l'originalità. Ho preparato dei fiori di zucca con un impieno di asparagi e ricotta e con una fonduta sotto di asparagi e robiola. Questo settore va sempre, non ha tanta crisi o cose del genere quindi hai sempre la possibilità di trovare lavori in qualsiasi posto. Con la sala sei più a contatto comunque col cliente anche per la presentazione per quanto riguarda il vino, i piatti mentre la cucina è più pratico, se più nascosto. La competizione che rientra nella 37esima rassegna enogastronomica asparagi e Vespaiolo che coinvolge ristoratori e commercianti ha visto sfidarsi staff composti da tre ragazzi, due cuochi e un responsabile di sala che si sono confrontati con i coetanei in quello che è stato soprattutto un momento di crescita per tutti. Mille bambini oggi a San Giuseppe di Cassola hanno festeggiato la pace e ricorda anche il preside scomparso lo scorso mese. La pace è amicizia star assieme, divertirsi Tutti assieme al campo sportivo di San Giuseppe aiutati dalla temperatura mite e dal sole a festeggiare la pace Abbiamo ballato! La pace è quando si amicizia È una cosa bella La pace è una cosa fantastica La pace è un dono Protagonisti un migliaio di studenti delle scuole del comune sul palco come presentatori gli ex studenti Tum 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 T balliamo e giochiamo ci divertiamo la felicità nel mondo e felici senza guerre e con la pace con gli amici e tutto senza litigare la pace è un tipo di legame che ci unisce tutti e un pericoloso evaso si nascondeva a San Giorgio in Bosco durante un controllo all'interno di un campo nomadi di Lobbia di San Giorgio in Bosco i carabinieri della stazione di Piazzola hanno arrestato un 54enne di Gemona del Friuli senza fissa dimora evaso alcuni mesi fa il suo nome è comparso anche nell'inchiesta per l'omicidio di Trifone e Teresa a Pordenone l'uomo è stato rintracciato all'interno di una roulotte ha prima mostrato un documento falso poi ha tentato la fuga aggredendo i militari che lo hanno bloccato nei suoi confronti era appendente un ordine di carcerazione per cumulo di pene emesso dalla procura della repubblica del tribunale di Udine che ha disposto la sua detenzione dovendo scontare la pena di quattro anni nove mesi e due giorni per i reati di furto rapina resistenza pubblico ufficiale evasione ed altri reati minori investì ed ucciso un nono che riuscì a salvare la nipotina l'investitore finisce a processo la procura di Padova ha chiesto il processo per il 29enne di Mirano accusato di omicidio stradale e violazione del codice della strada per l'incidente che la sera del 7 ottobre scorso era costato la vita un nonno di 78 anni travolto in via Risti a Villanova di Campo San Piero mentre era a passeggio portando davanti a sé il passeggino della nipotina di un anno e mezzo prima di venire investito però l'anziano era riuscito a spingere sul marciapie del passeggino salvando la vita alla piccola la bimba era stata portata in pediatria dove è stata tenuta sotto osservazione poi dimessa mentre il nonno nonostante i tentativi di rianimazione è deceduto sul ciglio della strada ed è stato donato al comune di Grantorto un reparto archeologico scoperto in una discarica sequestrata nella zona nell'ottobre dell'anno scorso i militari della compagnia di cittadella della guardia di finanza durante un servizio di controllo del territorio avevano sequestrato nel comune di Grantorto un fondo di circa 5 mila metri quadri adiacente agli argini del fiume Brenta sull'area erano stati abbandonati in maniera incontrollata rifiuti molti dei quali di natura pericolosa per circa 60 tonnellate durante le operazioni i finanzieri avevano anche rinvenuto all'interno di un fabbricato fatiscente un manufatto in marmo recante iscrizioni in latino e datato 1779 dopo l'autorizzazione concessa dalla procura di padova e dopo il parere della sovrintendenza il manufatto è stato affidato ufficialmente dalle fiamme gialle al comune di Grantorto e sarà esposto negli spazi museali dell'associazione gruppo archeo medio Brenta temi di grande attualità questa sera a focus a partire dalle 21 e 05 con il nostro direttore luigi baciali ci saranno anche elena donazzan pietrangelo pettenò jacopo berti tiziana agostini riccardo zumschi e nicola siani ora vi lascio le previsioni del tempo di domani grazie dell'attenzione arrivederci l'olato dal 1975 un team di specialisti al tuo servizio porto che via su misura valutazioni posturali produzioni di ortesi plantare centro cura del piede con servizio di podologia le previsioni per domani cielo sereno poco nuvoloso precipitazioni assenti temperature minime in ulteriore calo salvo risultare in aumento sui settori dolomitici più settentrionali massime in ripresa l'olato ortopedia e sanitaria vasta gamma di ausili soluzioni personalizzate a bassano asiago vicenza e montebelluna l'olato al servizio del tuo benessere